Buono, facile e veloce Amici di Buono, Facile e Veloce oggi prepareremo un contorno rapidissimo con i funghi da fare veramente all'ultimo minuto quando rientriamo a casa in 4 e 4 8 i funghi grigliati che naturalmente possono essere grigliati sulla piastra ma noi invece cucineremo, cuoceremo sotto il grill del forno quindi ancora più rapido utilizzeremo dei funghi pleurotus e poi semplicemente prezzemolo, aglio, sale, pepe e olio extravergine d'oliva allora iniziamo subito la preparazione dei funghi grigliati al forno utilizziamo dei funghi pleurotus che troviamo facilmente al supermercato tutto l'anno perché in linea di massima sono dei funghi coltivati e li troviamo anche col nome di pleus oppure orecchiette, ostrica per via di questa forma e allora, mai come in questo caso la pulizia dei funghi è facilissima i funghi come sappiamo non vogliono acqua però in questo caso proprio perché sono funghi coltivati quindi coltivati normalmente sui ceppi, sulle ballette non troviamo residui di terra, vedete? quindi sarà davvero sufficiente eliminare la parte terminale e poi pulire la cappella del fungo con una pezzuola o della carta assorbente appena appena umida vedete, residui in realtà non ce ne sono affatto però giusto per igiene e pulizia facciamo quest'operazione in verità al supermercato spesso li trovate già nelle confezioni quindi non attaccati al ceppo come nel mio caso e quindi sarà ancora più facile eliminare la parte terminale del gambetto ora naturalmente potremmo grigliare i funghi sulla piastra, quindi sul fuoco ma invece lo facciamo in forno, quindi in maniera molto più rapida per cui prendiamo la leccarda del forno, stendiamo un foglio di carta forno e adagiamo sopra i funghi, disponendoli in maniera più o meno ordinata perché non si accavallino e adesso li condiamo con un filo d'olio poi dell'aglio che vado a tritare direttamente così in maniera molto rapida direttamente sui funghi e lo spargo naturalmente se avete tempo vi preparerete prima il trito di aglio e prezzemolo ma altrimenti ecco, perché vi dicevo che è una ricettina rapida rapida da preparare appena torniamo a casa così facciamo ancora prima lo stesso facciamo col prezzemolo che tagliuzziamo e facciamo cadere un po' qui e lì quindi in maniera, vedete, molto molto grossolana adesso saliamo e pepiamo se preferite va bene anche il peperoncino naturalmente questo condimento potete anche prepararlo a parte nel senso che unite in una ciotolina emulsionate tutto e poi dopo lo distribuite sui funghi ora inforniamo in modalità grill poi li rigiriamo vedete sono già cotti su un lato li facciamo grigliare un po' anche dall'altra parte veramente bastano 10 minuti per lato messi sotto il grill non abbiamo bisogno di seguirne la cottura e li rimettiamo al forno per un'altra decina di minuti ed ecco pronto il nostro rapidissimo contorno di funghi grigliati al forno un contorno buono, facile e veloce curiosate sul nostro canale youtube per trovare le ricette che fanno al caso vostro le ricette che più vi piacciono aspetto i vostri like i vostri commenti e vi do appuntamento alla prossima ricetta per preparare il contorno di funghi grigliati al forno vi occorreranno dei funghi pleurotus aglio, olio extravergine d'oliva prezzemolo, pepe o peperoncino tutto in quantità secondo i vostri gusti e il vostro appetito a presto